Dalle prime ore di questa mattina tecnici ed operai del comune di Salerno sono al lavoro in via Vinci Prova per segare gli alberi in bilico dopo il cedimento di una pianta che ieri ha fatto sfiorare la tragedia nella zona molto trafficata strategica sul piano viario e sede anche del terminal bus. Via Vinci Prova ha richiesto un immediato intervento di messa in sicurezza. Ieri il cedimento dell'albero che si è steso sulla carreggiata ha fatto allarmare i residenti e fatto gridare l'opposizione in consiglio comunale anche a rischio di una tragedia sfiorata. Se l'albero fosse caduto in una giornata lavorativa quando centinaia di persone attraversano via Vinci Prova c'era davvero il rischio che ci scappasse il morto. 5 in totale le piante eliminate perché dopo il parere degli agronomi del comune di Salerno considerate a rischio di caduta molto probabilmente oltre alle condizioni precarie di salute delle alberature a causare il cedimento anche la forte ondata di maltempo che ha flagellato il comune capoluogo già da sabato. Ulteriore conferma arriva da quanto accaduto in mare. Una grossa boa di segnalazione è stata completamente disarcionata dall'ormegge e ha finito per scaraventarsi sulla scogliera che difende il litorale all'altezza del lungomare di Salerno. Si tratta forse della boa di segnalazione dei lavori in corso all'interno del porto di Salerno. Il recupero della stessa non sarà facile e dovrà certamente attendere migliori condizioni meteorologiche.